Buongiorno, rivolgo un caro augurio di un sereno Natale ai miei concittadini e a quanti hanno il piacere di seguire questo appuntamento settimanale anche in questa giornata di festa. Sono giorni di tradizionale festività, di tradizionale incontro con parenti ed amici, sono giorni difficili in merito al contagio pandemico e anche in questa occasione sono richiedervi particolare attenzione e rispetto delle norme predisposte. Innanzitutto il mio primo saluto va alle persone che in queste giornate sono malate o sono al lavoro per garantire il supporto e i servizi pubblici fondamentali. Grazie a tutto il personale che opera a vario livello nell'ambito sanitario e a chi lavora nella pubblica sicurezza e nella protezione civile. Il 2021 è stato un anno intensissimo e pieno di numerosi impegni che ci ha visto coinvolti sotto i vari fronti. In primo luogo l'emergenza pandemica, Covid-19, l'alluvione Christian del 4 ottobre scorso. Eppure non ci siamo fermati, abbiamo lavorato e continuiamo a farlo vicino alle famiglie e alle attività produttive con misure di sostegno, interventi di sommorgenza, progetti sociali, iniziative solidali al fine di contribuire insieme a una graduale e condivisa ripresa. Ma non ci siamo fermati qua. Innanzitutto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha riconosciuto al nostro Comune con il DPR 26 marzo 2021 il titolo di città. Abbiamo inoltre ottenuto importanti finanziamenti per realizzazione di nuove opere per la riqualificazione, innanzitutto dell'iter progettuale e finanziario di Villa Maria, per la messa in sicurezza del Rio Santo, nonché per l'adeguamento artisismico delle scuole statali primarie Don Peluffo di Quiliano e per essi di Valleggia, per un totale complessivo di circa 3 milioni e 750 mila euro. Opere queste finanziate con i fondi dello Stato. Abbiamo attivato il nuovo sportello telematico per i cittadini, stiamo per mettere in rete anche il nuovo portale turistico della città di Quiliano. Siamo entrati nella rete dei Comuni Sostenibili. Attraverso la Convenzione con la Federazione Italiana Tabaccai, tutti i cittadini potranno richiedere certificati anagrafici direttamente presso le tabaccherie convenzionate, in quanto collegate alla ANPR, Anagrafe Nazionale Popolazione Residente. Inoltre, grazie alla collaborazione con le realtà associative di rilevanza regionale, nazionale e di carattere più territoriale, abbiamo lavorato su vecchie e nuove rassegne e vecchi e nuovi cicli di eventi che ero occupano tutto l'anno, da Quiliano Città Viva, Granaccia e Rossi di Liguria, da Quiliano Natura a Quiliano Cinema, l'Albicocca di Valleggia e il Mercato Quiliano Natura, fino a giungere alla collaborazione con il May Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza, che ci ha permesso di ospitare dal 2021, presso il Teatro Nuovo di Valleggia, il Premio Nazionale per la Canzone d'Autore Emergente, che ora si chiama Premio Città di Quiliano. Ricordiamo inoltre l'attivazione della nuova area per le manifestazioni e eventi presso il Parco di San Pietro in Carpignano, inaugurato nell'agosto scorso con il concerto dello Yo Yo Mundi. Insomma, Quiliano cercherà di recuperare, di migliorare dove ci sono necessità, ma guarda avanti e rivolta verso il futuro e soprattutto alla ricerca costante di uno sviluppo sostenibile, solidale e al passo con i tempi, in una logica di attenzione rivolta a tutte le fasce sociali. Ed è con questo spirito di servizio che, assieme alla mia amministrazione comunale, desidero formularvi i miei auguri sinceri di un Buon Natale e soprattutto di un nuovo anno 2022 sereno e portatore di risultati positivi per la nostra comunità.